Sì, è un lungo tour de force che inizia con la prima delle tante partite che dovremo affrontare nei prossimi 42 giorni perché in 42 giorni abbiamo una bellezza di 10 partite da giocare fra il campionato e il primo tour di Coppa Italia quindi ci sarà una partita più o meno ogni 4 giorni ma dobbiamo pensare a una partita alla volta, mi rasserena il fatto di avere tutti a disposizione a parte la squalifica ancora da scontare di Vito Leonetti quindi da questo punto di vista ci arriviamo bene, sono contento di come l'abbiamo preparata è stata una settimana un pochettino più lunga delle altre e adesso ci apprestiamo a affrontare un Brindisi che sicuramente viene da una prima di campionato dove probabilmente ha perso anche meritatamente e non ha giocato nella seconda giornata quindi avranno voglia anche loro di darci del filo da torcere noi ci siamo preparati al meglio perché vogliamo sicuramente cercare di fare il meglio di quanto fatto nelle prime due partite ma devo dire che sotto l'aspetto delle prestazioni anche dell'impegno alla squadra non è venuta meno poi io mi sono portato comunque a casa, avevo detto ai ragazzi questi due risultati comunque positivi perché sono positivi il fatto che comunque è portato a casa a punti, è dato continuità non sei uscito battuto dal campo e ti dà la possibilità di lavorare magari con una testa diversa ovvio che per ottenere la vittoria ci vuole qualcosa in più, qualcosa in più non è solo una questione tecnico-tattica è sicuramente anche caratteriale l'aspetto che questa squadra non è mancato che ha e credo che domani sicuramente i ragazzi cercheranno in tutti i modi di fare una prestazione importante davanti al nostro pubblico poi dopo è chiaro che ci sarà un avversario, un avversario da rispettare tra l'altro allenato da un allenatore che io stavo molto, che ho incontrato più volte in questi due anni di Serie D che è il mister Danucci, c'è una stima reciproca, credo che ci accompagna loro sono stati molto bravi lo scorso anno, evitando secondo me di vincere un campionato difficile e adesso vorranno tenersi stretta questa categoria, quindi dobbiamo stare ben attenti ma è chiaro che il fatto di giocare di lunedì sera in posticipo dà la possibilità sicuramente a tutti gli altri lavoratori di essere presenti di essere osservati un po' tutti quanti, quindi deve essere uno stimolo in più per tutti quanti noi per noi, per me e per lo staff e per i giocatori che vanno in campo perché potrebbe diventare una vetrina importante per tutti sono certo che ne verrà fuori una bella partita speriamo chiaramente di rionorarla al meglio visto che ci sarà anche la presenza come detto te del Presidente di Lega e di tante altre persone, quindi noi quello che ci importa è cercare di far felici i nostri tifosi ci proveremo perché comunque hanno dimostrato in queste due prime giornate di esserci, di starci vicino che è quello che serve perché abbiamo bisogno anche di loro anche nei momenti magari di leggera difficoltà e quindi domani tutti insieme cercheremo di fare una grande prestazione